Diego Maradona Junior, questo è stato un omaggio importante, è stato un momento importante e ti sei fatto promotore di questa bellissima occasione. Sì, sono strafelice per quello che abbiamo fatto, abbiamo giocato per la pace, abbiamo giocato per papà e sicuramente lui adesso è orgoglioso di tutti noi, siamo stati per la prima volta tutti e cinque insieme e abbiamo dato un grande segnale. È un mese particolare, io ci penso spesso, quello di novembre, prima arriva il compleanno, poi adesso c'è l'anniversario della morte. Io ne avevo due, mia mamma ha avuto due mariti, sono morti il 2 a novembre, quindi novembre è un mese brutto, speriamo che passi in più. C'è qualcosa che Diego papà ti ha detto e che magari non ha mai detto pubblicamente del suo rapporto con Napoli? No, lui amava la città, tanto è vero che cantava le canzoni napoletano, faceva un sacco di cose, però penso che si sono dette tantissime cose sul papà e io porto nel cuore il grande amore che aveva per noi, non per la mia gente, quindi questa è secondo me la cosa più bella. Si ringrazio.